Per la giornata di oggi, venerdì 11 agosto, io sono Loredana e sono qui su Notizie Non Click per leggere insieme a voi alcuni titoli degli articoli che abbiamo pubblicato e che andremo ancora a pubblicarne nel corso della giornata. Se ne va Peppino Bagliardi, voci di Napoli, ritorna a Carmagnola in provincia di Torino la fiera nazionale del peperone. Siamo all'estero Valona. Albania, la cooperazione fra l'Italia e l'Albania mette in salute il turismo. Migranti, Mauri, PD, davanti a tragedia del governo faccia un passo indietro. PNR, aggiornamento o svuotamento e il suicidio per ancora l'estero della diplomazia europea. Educazione finanziaria, extra profitti, il governo prova a rassicurare le banche. Questo e molto altro potete trovare nel nostro portale di informazioni. Grazie per essere stati con me e come dico sempre, se vi va rimanettici ancora Loredana. Grazie per essere stati con me e come dico sempre.